L'assessore Oniglio Olio Oliva è un grande evento che è anche grande occasione commerciale per il centro di Oniglia non solo. Sì, è un evento importante per tutta la città d'Imperia, un evento non solo commerciale ma anche turistico, è un evento che raccoglie in sé la tradizione e l'esperienza imperiese nella cultura dell'olio, nella cultura dell'agroalimentare, è un settore che ci mostrano i dati e è sempre più trainante per l'economia italiana, vale il 16,5%, è un settore che sta avendo un grandissimo sviluppo in Liguria, noi crediamo molto nell'agroalimentare, nell'esperienziale, l'Imperia si candida a essere sempre di più città dell'olio, una città dove si può vivere l'esperienza dell'olio, dove si può vivere nelle vigne, dove si fa l'esperienza della bacchiatura, della frangitura, dove abbiamo un prodotto unico e che viene stimato dagli chef più importanti del mondo, l'importante è continuare a preservare e a portare avanti questa importante manifestazione che valorizza Imperia e l'olio.